Allora siamo a Pio di Sacco, qui abbiamo il candidato centrodestra Paolo Mazzetto, come sta andando? Sta andando molto bene perché l'affetto dei cittadini ci sta dando non solo grande energia e grande voglia di fare, di fare bene, ma soprattutto ci sta dando un sacco di indicazioni, anche microindicazioni, perché è giusto avere i grandi progetti, è giusto avere le grandi ambizioni, ma è anche giusto risolvere quelli che sono i piccoli problemi di tutti i giorni, i problemi che magari sono sentiti solo da poche famiglie o da una via e quindi questo dialogo mi sta veramente motivando molto, mi sta dando anche tutta una serie di informazioni da integrare a quello che è già il nostro programma. Abbiamo qua un candidato consigliere con la lista civica, la candidata Lucia Pizzo, tu mi chiami? Mattia Bugio, ciao a tutti, buongiorno, siamo qui a Pio di Sacco, questa è la prima mattina, con il banchetto in piazza, con il gazebo e abbiamo iniziato insomma a uscire, ad esserci, stiamo formando le liste. Tu perché ti sei messo in lista? Cosa ti ha spinto? Io sono consigliere uscente e quindi ho fatto cinque anni, ormai siamo quasi al termine insomma del mandato. E lo si ometteranno mai? Mi ripresento, il lavoro è stato direi ottimo insomma di questi cinque anni e Lucia, vice sindaco uscente, si candida a sindaco e l'appoggio. Abbiamo lavorato in stretto contatto su varie tematiche, digitalizzazione, ambienti in particolare e quindi mi ripresento, convinto insomma. Sono Lucia Pizzo, sono la vice sindaco del comune di Pio di Sacco, abbiamo scelto con una squadra la mia candidatura, la candidatura per una città che vuole continuare a cambiare il volto, una città pubblica, una città dove insieme vogliamo continuare, soprattutto per una città più connessa, più verde, ancora più verde, che risponda alle sfide di oggi e del futuro. Una squadra giovane, una squadra però composta anche da persone che hanno molta esperienza e che hanno dimostrato in questi dieci anni che Pio di Sacco è stata in buone mani e questa è la nostra sfida, quella di continuare a proporre una città che cammina con una squadra dove non ci sono i simboli di partito e nessuno è venuto dall'alto a invitare il candidato. Quindi una squadra del territorio aperta a tutti. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il Parco Commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.